Dottor Berti, può descriverci la granulomatosi osinofilica con poliangioite? Che sintomi ha, come si presenta e che impatto ha sulla vita dei pazienti? La granulomatosi osinofila con poliangioite è una malattia rara, sistemica, infiammatoria che fa parte del gruppo delle vasculiti anche associate, ovvero un gruppo di vasculiti dei piccoli vasi, di infiammazione dei piccoli vasi che si associa nel sangue periferico alla presenza di anticorpi diretti contro il citoplasma dei neutrofili. Questo fenotipo particolare di vasculite, la granulomatosi osinofila con poliangioite per l'appunto, è caratterizzata dall'avere un'infiltrazione d'organo di eosinofili che sono uno dei meccanismi principali di malattia. Le cellule mediatrici della malattia. I sintomi che questa patologia può dare riguardano l'albero respiratorio, in particolare l'asma osinofilico, la rinosinusite polipoide, l'iperosinofilia periferica è un segno comune. E c'è poi tutta una serie di sintomi e segni che sono relativi all'infiltrazione d'organo da parte degli osinofili o all'attivazione poliangitica. Dottor Berti, fino ad oggi la granulomatosi osinofilica con poliangioite veniva trattata con corticosteroidi sistemici immunosoppressori, farmaci che sappiamo avere pesanti effetti collaterali. Oggi abbiamo a disposizione un anticorpo monoclonale chiamato mepolizumab. Può spiegarci il suo meccanismo d'azione e come si differenzia dalle terapie precedentemente utilizzate? I corticosteroidi rimangono e sono ancora oggi il corner store principale della terapia dell'agronomatosi osinofilica con poliangite e a seconda della severità della malattia vengono aggiunti immunosoppressori, ovvero tanto più severa la malattia, tanto più è necessario aggiungere ciclofosfamide, rituximab oppure altri immunosoppressori convenzionali, azetioprina, metotrexate e via dicendo. Il beneficio che il corticosteroide ha sull'attività di malattia è certamente importante, ma questo reca con sé problemi a lungo termine, danno a lungo termine, legato al dosaggio cumulativo che i corticosteroidi nel lungo periodo possono portare. In particolare mi riferisco a ipertensione, a presenza di rischio cardiovascolare più elevato, rischio di infarto, rischio di stroke, osteoporosi, diabete mellito e via dicendo. Nel 2017 c'è stato uno studio clinico che ha dimostrato l'efficacia e la sicurezza del mepolizumab, il farmaco che oggi è approvato per il trattamento della granulomatosi isinofila con poliangite, che va a targhettare il fattore di crescita principale di questa malattia, l'interleuchina 5. L'interleuchina 5 infatti è il fattore principale responsabile della proliferazione, della maturazione, della migrazione tessutale degli osinofili e quindi questo nuovo farmaco che ha la particolarità di essere targeted, quindi di andare specificatamente sul target di malattia, permette quindi un mantenimento della remissione di malattia, una riduzione di quelle che sono le ricadute e una riduzione del dosaggio di corticosteroide. Quindi il beneficio di queste nuove terapie biologiche mirate è appunto quello di riuscire a ridurre gli effetti collaterali legati soprattutto alla terapia steroidea, più che a quella immunosoppressiva convenzionale. Ecco, dottor Berti, lei accennava appunto allo studio MIRRA che ha dimostrato efficacia e sicurezza di questa molecola. Come è stato condotto lo studio e quali sono stati i principali risultati emersi? Lo studio MIRRA è uno studio del 2017, uscito su una prestigiosa rivista medica, il New England Journal of Medicine, condotta su 136 pazienti, uno studio di fase 3 randomizzato e controllato, che dimostra come il mepolizumab ad un dosaggio di 300 mg al mese, quindi un dosaggio superiore rispetto a quello che viene utilizzato per l'asma, permetta di mantenere la remissione per più settimane in una proporzione maggiore di pazienti rispetto al placebo e a ridurre anche la probabilità di relapse, cioè di ricaduta di malattia, ridurre il dosaggio di corticosteroide. Per essere più precisi, ridurre una buona proporzione di questi pazienti a un dosaggio di steroide inferiore a 4 mg al giorno, che è un ottimo risultato per questi pazienti. Questo studio quindi, condotto nel 2017, ha poi portato successivamente all'approvazione di questo farmaco, che oggi possiamo utilizzare per scrivere in questi pazienti, con granulomatosi osinofila con poliangite e questo ci permetterà quindi, prospetticamente, di ridurre tutti quei danni legati all'utilizzo di corticosteroide ad alta dose per via sistemica.